Giovedì 9 maggio 2013, l'auditorio Untestori del Palazzo Lombardia a Milano ha ospitato ancora una volta i workshop di infoprogetto firmati Action Group con il patrocinio dell'Adi Lombardia. Una giornata dedicata a facciate, infissi, porte e riqualificazione. Presente in qualità di relatore anche Gianluca Padula. Oggi illustro un esempio di alcune facciate che abbiamo realizzato in un intervento che stiamo sviluppando all'Energy Park a Rimercate in provincia di Milano. Sono esempi certificati, il primo Lid Platino e gli altri sono in corso di certificazione per cui sembra interessante mostrare queste nostre soluzioni anche se non sono particolarmente innovative. Ognuno di noi si ritrova a indagare i settori di ricerca o di sperimentazioni nei casi concreti e poi mancano situazioni di confronto quindi occasioni come queste sono assolutamente da ripetere.